La provincia ionica è ricca di storia, di tradizioni e siamo qui in quel di Lizzano, provincia di Taranto, i festeggiamenti per San Giuseppe. Vedete alle mie spalle il falocche, il simbolo proprio di questa festa, uno dei simboli di questa festa, una grande partecipazione popolare, una sentita e doverosa devozione che si ripete di anno in anno. Siamo con Angelo Nissi dell'Associazione Pietre Vive. Allora parliamo di questi festeggiamenti, come si strutturano, come si sviluppano i momenti di queste giornate. Buonasera a tutti anzitutto. I festeggiamenti in onore di San Giuseppe qui nella nostra terra di Lizzano sono particolarmente rilevanti e conosciuti e soprattutto radicati nel tempo, perché possiamo guardare molto indietro nel calendario e guardare come la nostra città nel corso degli anni ha sempre avuto una devozione particolare verso il Santo. È anche una tradizione, se vogliamo, che appartiene a una cultura pagana, perché la festa del fuoco che veniva celebrata il giorno prima delle quinozze di primavera, e ci troviamo come giorni, quindi univa i due aspetti. Lizzano si caratterizza anche perché durante la vigilia di San Giuseppe ci sono le famose tavole, che proprio ieri hanno dato il meglio di sé. Molte famiglie che sono devote al Santo rappresentano una molteplicità di cibi con un rito molto particolare. Noi di Pietre Vive invece facciamo in modo che il giorno 19 ci sia questo ricordo dei fuochi, quindi i falò che radunano la comunità qui nel nostro convento è una tradizione che si perpetua da molto tempo. Noi come associazione da 14 anni teniamo viva questa realtà. E questa sera ci troviamo qui proprio per questo motivo. Quindi c'è stata poco fa la benedizione del fuoco e poi ci sarà tutto un insieme di attrazioni. Un momento, anzi più momenti per stare assieme. La comunità lizzanese ha bisogno di questi momenti. Ricordiamo in estate le Antoniadi e per ogni evento, soprattutto legato a fatti religiosi, la comunità si stringe intorno ai propri simboli storici. Certo, è uno dei simboli storici per eccellenza del nostro convento, che da sempre raduna attorno a sé tanta gente. In questa occasione abbiamo l'esordio, perché non abbiamo più i frati. Purtroppo da circa sei mesi abbiamo seguito la vicenda. Abbiamo seguito la vicenda, c'è stato un cambio. Adesso c'è un sacerdote diocesano, una persona molto stimata, molto aperta, molto disvanibile, Don Pompilio Patti, che ha accolto di buon occhio questa nostra iniziativa, l'ha sostenuta e questa sera è qui con noi a fare festa insieme alla sua nuova comunità, che tanto lo ama.